È il momento delle dieci migliori giocate della settimana. Core Side, countdown. Alla numero dieci, il lob, per Serge Ibaka. Alla posizione numero nove, Mr. Kobe Bryant. Domani e adesso, John Wall, Ja'Val McGee. Alla numero sette, i nuovi Knicks targati Amari. Alla numero sei, la grande notte, di Paul Millsap. From Miles, three out of the corner. No, Millsap on a follow. Ties the game at 1.04. We're going to overtime. Paul Millsap, the greatest game a Utah Jazz player has ever had against Miami. A metà classifica, il buzzer beater degli Charlotte Bobcats. Oh boy, six tenths of a second left to go. Augustine to Brown. We're on time. Posizione numero quattro, per Andre Iguodala. Sul podio, Deron Williams e il suo tiro vincente. Medaglia d'argento, per Blake Griffin. E alla numero uno, l'Australiano volante, Andrew Boglant. Fine corsa, NBA Action si ferma qui. Alla numero uno, l' salad you so pretty. It's right to me.